Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere il problema riguardo ai caricamenti lenti della shader nei giochi ovviamente come puoi vedere la differenza dei due caricamenti una volta disabilitato e una volta abilitato così l'impostazione nel pannello di controllo di Nvidia accumulerà così queste cache senza che poi le riscrivi di nuovo da capo e ovviamente tu potrai giocare senza problemi e caricare più velocemente quindi tutte queste cache poi si salveranno nella cartella di appdata la cartella di appdata si trova nel comando esegui va dentro va in appdata appdata local le cache poi le troverai sia qui che nelle cartelle stesse dei giochi che nella cartella di Nvidia eccola qua Nvidia, Nvidia Corporation, Nvidia Profile Spectre oppure local lo stesso sui giochi e nelle cartelle di Nvidia qua dentro quindi per abilitare così questa impostazione se tu hai un processore una scheda grafica AMD provaci lo stesso e vedi se ti riesce proprio a risolvere questo problema nei caricamenti grazie al pannello di controllo di Nvidia se non hai questo pannello ti ho lasciato in descrizione un link che ti porterà sulla pagina per scaricare questo pannello oppure se non lo trovi qua sotto lo puoi scrivere direttamente su Nvidia Control Panel vai su gestisci le impostazioni 3D dimensioni cache shader a me è disabilitato quindi io adesso posso accumulare le cache shader fino a che ne so senza limiti senza limiti quindi accumulerà, accumulerà ma parecchi anche negli anni accumulerà così cartelle piena piena e piena di cache accumulando così la cartella piena di giga uno spazio veramente grandissimo e io metto fino a 100 giga tutto qua dimensioni cache shader 100 giga faccio applica ok una volta fatto è risolto i problemi nei caricamenti poi vabbè poi dipende anche dai dischi io per esempio ho un M2 questo volume qua è l'M2 gestione attività vi faccio vedere prestazioni eccolo qua SD ecco NVMe questo qua è l'M2 io ovviamente gioco pure qua sopra più l'impostazione abilitata delle cache non ho problemi nei caricamenti delle shader quindi se questo video ti è stato utilissimo su come risolvere il problema e velocizzare un po' i caricamenti delle shader nei giochi iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao